Ultima riunione di corsi al trotto e notturna all'ippodromo Sesana di Montecatini, con spettacolo dentro e fuori la pista. Sabato, oltre alle normali sfide, sempre molto intriganti ed interessanti, la serata prevede anche la disfida dei castelli e dei comuni, rievocazione storica medievale in occasione dei 700 anni dalla battaglia di Montecatini. La disfida rientra negli eventi organizzati per ricordare la battaglia che si consumò alla fine di agosto del 1315 e che vide fronteggiarsi le fazioni Guelfe e Ghibelline in un duro e sanguinoso scontro. Ad organizzarla è stata la Proloco di Montecatini Alto. Partendo da questa rievocazione di battaglia che si è svolta nella Val di Nievole, abbiamo avuto l'idea di fare una corsa a cavallo, più ludica, ma che rievocasse un po' anche il temperamento degli animali, il temperamento degli uomini che andavano a combattere e hanno combattuto nella battaglia del 1315 a Montecatini per la conquista del castello e per la conquista del potere da parte di Firenze di tutta la Toscana, cosa che non è riuscita perché hanno vinto i Ghibellini in questo caso. Tutto questo ovviamente grazie alla collaborazione del Comune di Montecatini, del Gruppo Trenno, proprietario dell'impianto e alla partecipazione del Comitato Promotore della Giostra dell'Orso di Pistoia. Saranno proprio i cavalli e i cavalieri della giostra i protagonisti della manifestazione che si svolgerà sulla retta d'arrivo della pista del Cesana. Sicuramente questo ci permette di mantenere un pochettino vivo quello che è i cavalli, che è l'ambiente nostro, perché se no quest'anno purtroppo senza la giostra si sarebbe un po' sgretolato. In questo modo ci tiene un po' uniti, anche se con qualche difficoltà, però si tiene acceso una fiammellina. La serata inizierà alle 19.45 con le 8 corse in programma. Al termine, intorno alle 23, via alla disfida con tanto di qualificazioni semifinale e finale.